Sono le sette di sera, da poco ho concluduto la sua conferenza stampa il sindaco di Roma, Ignazio Marino, una conferenza stampa particolare, c'erano molti dei suoi fan ad applaudire a ogni suo passaggio, ha detto al PD mi avete accoltellato, qui ci sono i suoi sostenitori che stanno stendendo per terra nella piazza per dire che bisogna portarli via di peso, ma il sindaco ormai non c'è più, a questo punto è aperta la procedura per la nomina del commissario che dovrà fare anche, occuparsi essenzialmente del jubileo nei prossimi mesi e che porterà Roma alle elezioni. Finisce con le macerne, le macerne soprattutto in casa del PD, sentite dietro di me e anche gli applausi invece dei fan di altri protagonisti di questa vicenda, laggiù ci sono quelli della lista Marino e della lista Marino che fanno il loro sit-in. Questa sera, alla fine di ottobre, si chiudono i 28 mesi di Ignazio Marino, il marziano sindaco di Roma, tornera, probabilmente, sumar.